La giornata è particolarmente felice perché c'è questa dedica della banchina alla Guardia Cossiera in occasione del 150esimo anniversario dell'istituzione del corpo delle campioni e in più c'è quest'altra felice occasione, quella di presentare in via definitiva la unità navale classe 700 che è destinata permanentemente all'ufficio locale marittimo e all'istituzione, un fatto abbastanza raro che un ufficio così moderno, così utile possa essere così presente in un porto minore che però tuttavia ha delle peculiarità e ha delle caratteristiche per il quale ho ritenuto di dover potenziare i dispositivi di controllo e di sorveglianza, anche perché l'ufficio locale marittimo è greggiamente diretto dal primo maresciallo Giuseppe e se lo merita come i suoi uomini per l'alta professionalità di mestrata e per il lavoro che veramente svolge con grande passione.